Mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, tu lo puoi ballare se ti va come ti pare. Questo non è una bossa nuova ma è un ritmo un po' strano che assomiglia al mambo. Se con me lo balli tu farei un ritmo di ridere. Questo non è una bossa nuova ma è un ritmo un po' strano che assomiglia al mambo. Mai. Non dica mai. No, sono fermamente convinta di quello che dico. In genere appunto mai è una parola che non uso mai, che uso diciamo pochissimo ma in questo caso sono convinta. Buonasera a tutti, sono Mara Carfagna, la numero 100. Rivolgere un invito a casa è un po' difficile, può risultare a volte un po' banale, anche perché credo che in questi giorni abbiate capito qual è la mia caratteristica più importante, la semplicità. Se credete che questo basti votatemi, grazie. La ciliegina sulla torta c'è stata oggi, la copertina del settimanale interview dedicata alla ministra Carfagna con il titolo, la ministra Max Exi del governo Berlusconi. È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia. Guardate un po' questa cartolina, saluti e baci dalla Tisana. Volerà nel cielo di la Tisana e arriverà sicuramente nelle mani di qualcuno. A chi arrivi l'invito di portarcela alla redazione della Domenica del Villaggio. Ciao la Tisana!